Ciao a tutti! Anche oggi un'altra bella novità. Cosa sono questi? Questi sono due bastoni virtuali per non vedenti. Se vi ricordate qualche mese fa avevo pubblicato un berretto, un bastone per non vedenti, che rilevano gli ostacoli e trasmettono a chi li usa la sensazione di distanza con una vibrazione che varia di intensità e ritmo. Ecco, questa è una tecnologia un po' diversa. In pratica la percezione della distanza qua è molto più immediata perché la vibrazione è in tre punti diversi della mano e si percepisce molto distintamente perché la parte vibrante viene isolata da una gomma morbida in modo da non trasmettere tutta la vibrazione al manico. In pratica più ci si avvicina ad un ostacolo e più la vibrazione si sposterà nel punto della mano. È una cosa che funziona molto bene perché è immediata. Spostandolo varia l'intensità e la posizione della vibrazione e ti dà già la percezione di dove è l'ostacolo e a che distanza è. Perché due? Perché ho voluto provare due tecnologie totalmente diverse. Questo è un sistema di rilevamento di ostacoli alida laser e questo è il classico sistema ultrasuoni. Ovviamente il sistema ultrasuoni è quello più affidabile perché anche all'esterno con molto sole funziona molto bene. Hanno un'autonomia elevatissima perché hanno una batteria ricaricabile molto grande e si può caricare tramite un classico caricatore con micro usb per un cellulare. Ecco sono molto soddisfatto ma spero di migliorarli un altro po'. Ci vediamo alla prossima.